Apri YouTube e nella home vedi un video che ti fa incuriosire, quindi lo clicchi e ti ritrovi davanti un'intera famiglia i cui membri si fanno scherzi divertenti tra di loro. È un video che tutto sommato ti fa sorridere, ma non sai che dietro quelle immagini si nasconde una verità terribile. Ciao belli d'ezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E per la storia di oggi non dobbiamo neanche viaggiare lontano con la fantasia, perché è accaduta proprio qui su YouTube. Il mondo di YouTube, ormai lo sapete, è davvero particolare. E nel corso degli anni su questo sito si sono susseguiti vari misteri e vicende inquietanti. Nonostante questo ovviamente ci sono anche tanti canali bellissimi con contenuti super interessanti e fatti bene, come il mio. Ma allo stesso tempo ce ne sono altri con contenuti discutibili. E oggi ci addentriamo proprio in uno di questi canali con contenuti molto discutibili, chiaramente. Si tratta di un caso nato e diffuso proprio qui su YouTube e che riguarda purtroppo una famiglia con dei bambini. E non so se lo sapete, ma negli anni ci sono state davvero tante famiglie che su YouTube facevano video e che poi si sono rivelate abbastanza problematiche. Ma questa storia mi ha colpito perché differisce dalle altre sotto molti aspetti e anche per via dei numeri spaventosi che avevano raggiunto queste persone su YouTube. Tanto per cominciare, sapete cosa sono i prank, vero? Potremmo chiamarli scherzi in italiano e c'è un'intera tipologia di video che si chiama proprio prank. Si tratta di persone che si fanno scherzi tra di loro, scherzi più o meno innocenti. Alcuni devo dire fanno davvero scassare dal ridere, ma altri sono un po' più esagerati, forse. A volte si tratta di scherzi volutamente montati ad arte per sembrare realistici, mentre altri sono fin troppo reali e fin troppo pericolosi. In sostanza si tratta di un format che negli anni passati è spopolato ovunque, non solo su YouTube. Ma come mai Andrew vi sta parlando di un format che dovrebbe far ridere? Ecco, il canale di cui parliamo oggi realizzava proprio questa tipologia di video, ma dietro a quelle riprese si nascondeva un lato davvero malato. Preparatevi, questa è la storia del canale Deaddio5. Tutto comincia il 13 agosto 2015, momento in cui su questa piattaforma nasce il canale YouTube Deaddio5. Deaddio5 nasce dall'idea di questo signore qui, Michael Christopher Martin. Tutti lo chiamano semplicemente Mike e quindi lo chiameremo Mike anche noi. Mike, appunto, nasce il 17 dicembre 1982 ed è una persona discutibile, come i contenuti che pubblicherà sul suo canale. Mike, infatti, vive un'infanzia non proprio felice. Cresce a Baltimore, nel Maryland, quindi ovviamente ancora una volta siamo negli Stati Uniti. E dovete sapere che in realtà Baltimore sembra un posto abbastanza bello, decisamente carino in cui vivere. Lì si trova il porto più grande degli Stati Uniti e la città conta oltre 600.000 abitanti. Un luogo con tante opportunità e sicuramente tutti i servizi di cui si può avere bisogno, non come il posto di merda in cui vivo io, in cui non c'è niente. Comunque c'è l'eccezione, perché per Mike questa città non è un bellissimo posto in cui crescere. A scuola, infatti, il giovane non è particolarmente costante e finisce con l'abbandonare gli studi alle superiori. Ma prima di questo sua madre adottiva si sposa e con questo nuovo compagno dona a Mike dei nuovi fratelli. Quindi presto il giovane diventa pappa e ciccia con uno di loro in particolare. In quel periodo gli altri descrivono Mike come un tipo molto fantasioso. Gli piace giocare, inventare, disegnare e, cosa più importante, gli piace avere i riflettori puntati addosso. E infatti in futuro questo piacere sarà soddisfatto, ma le cose non andranno come sperava. Comunque sappiamo che durante la sua infanzia e giovinezza Mike subisce davvero delle brutte punizioni. Cioè, quando sbaglia viene costantemente umiliato e deriso e sembra che tutti lo distruggano emotivamente. Il che gli fa ovviamente abbassare tantissimo l'autostima, ma non solo. Infatti queste punizioni fanno crescere in lui un senso di rabbia smisurato, che da grande dovrà sfogare in qualche modo. Crescendo quindi questa rabbia si trasforma inevitabilmente in arroganza e poca voglia di prendersi le proprie responsabilità. Si dice che Mike sviluppa dei problemi relazionali. Cioè, diventa una di quelle persone che trova sempre il modo di incolpare gli altri per i suoi errori. E fa sostanzialmente il prepotente perché vuole avere sempre ragione. Dato che per molto tempo pensava di non averla mai avuta. Non è sicuro, ma possiamo ipotizzare che si comportasse un po' come un bulletto, sia a scuola che fuori. E a dare ancora più peso a questa sua delicata situazione mentale è l'arrivo di una piccola grande tragedia. A sua madre viene diagnosticato un aneurisma. Condizione che può portare a ictus, aumento cronico della pressione e coaguli nel sangue. Insomma, questa non è per niente una bella notizia. Anzi, per Mike è davvero un duro colpo. Anche perché dopo questa diagnosi si ritrova costretto a lasciare casa a causa di alcune situazioni particolari col patrigno. Così è obbligato ad andare a vivere dai suoi nonni. Ma questa sua condizione lo devasta. Vive come in una sorta di auto-isolamento. Non è capace di affrontare questi problemi. Quindi si chiude in se stesso totalmente. Per esempio, ricordate che era pappa e ciccia con uno dei suoi fratellastri? Ecco, quest'ultimo in quel periodo cerca di tenere vivo il loro legame, ma Mike non glielo permette. È proprio offeso anche con il suo fratellastro per chissà quale motivo. Tanto che anni dopo, proprio lui, il fratellastro, proverà a ricontattarlo, ma verrà rifiutato da Mike ancora una volta. Come se fosse colpa sua che Mike era stato cacciato di casa. E così gli anni passano. Anni in cui il nostro ragazzo cresce non proprio benissimo, ma diciamo che si fa una vita. Trova un lavoro e costruisce una famiglia. Si sposa con una donna di nome Heather Martin. Una persona molto solare che, quando si incontrano, ha già tre figli avuti da un precedente matrimonio. Questi tre figli della donna si chiamano Jake, Ryan e Alex. Mike si ritrova in una situazione molto simile a quella di Heather, perché prima di lei aveva avuto una ragazza di nome Rose, con cui aveva fatto due figli, Cody ed Emma. Non è chiaro come Mike e Heather si siano conosciuti, ma alla fine diciamo che mettono insieme una famiglia molto unita e felice. Composta da loro due e i rispettivi figli avute in altre relazioni. Il 13 agosto 2015 decidono di far vedere al mondo intero la loro vita familiare e aprono il canale DaddyO5. Traducendolo si potrebbe chiamare Padre di Cinque, Papino di Cinque, perché i figli appunto erano cinque. Comunque si tratta di un canale innocuo, senza troppe pretese, ma che diventerà sia la loro fortuna che la loro più grande rovina. Il canale YouTube DaddyO5 comincia a pubblicare contenuti piuttosto blandi, cose già viste e riviste. All'inizio vengono caricati video in cui Mike e sua moglie Heather vanno da qualche parte insieme ai loro cinque figli. I loro video rientravano nella categoria Vlog, ovvero video in cui ci si riprende mentre si va da qualche parte e si fanno cose e cose così. Sono sicuro che li conoscete meglio di me. Comunque a primo impatto e secondo quanto traspare dai video, la loro è una famiglia deliziosa. Unita, felice, sono veramente carini. Avere cinque figli immagino non sia facile, ma da quel che vediamo sembra che riescono a gestire molto bene questa situazione. All'inizio. All'inizio. Tutto quello di cui vi sto parlando adesso è riferito proprio all'inizio di quando hanno appena aperto il canale. Infatti per il pubblico è davvero bello vederli tutti insieme, anche perché Mike si dimostra molto bravo ad intrattenere. Anzi in effetti lo era sempre stato fin da piccolo. Quindi ogni loro vlog diventa una piccola grande avventura, grazie a Mike. E le persone semplicemente amano vedere questa famiglia numerosa che va in giro a fare cose. Chi li guarda probabilmente vuole rilassarsi e vedere cose positive che danno speranza. E questi vlog sono il contenuto perfetto per loro. I numeri del canale in termini di scritti e visualizzazioni cominciano ad aumentare sempre di più. Ma lentamente e in maniera molto graduale la tipologia dei contenuti cambia. Passano dai vlog ai prank, cominciando a farsi scherzi a vicenda e riprendendo tutto. Il tutto comunque appare molto innocuo e molto scherzoso appunto. In effetti si tratta di piccoli scherzi innocenti, ma che su YouTube andavano molto forti. E ovviamente c'è sempre Mike dietro tutto questo, c'è sempre lui che organizza gli scherzi, architetta tutto quanto. E alla fine si rende conto che questa tipologia di video piace ancora di più dei vlog. Il canale Deaddio5 così acquisisce molta notorietà. E quando chi fa contenuti online vede che una certa tipologia piace, di solito continua a proporla. E magari cerca di renderla più accattivante. Più spinta. Così da attirare sempre più spettatori. Peccato che in questo caso siamo in un contesto piuttosto delicato. Ma adesso vedrete. Mentre producono e caricano video su YouTube, decidono anche di approdare in live su Twitch. Dove molto in fretta notano che i loro guadagni si triplicano. E iniziano anche a vedere un netto aumento della popolarità. L'idea di Mike di fare prank comunque, per essere nata da un tweet che aveva scritto in precedenza. In questo tweet diceva ai suoi follower che presto avrebbe pubblicato un video in cui faceva appunto uno scherzo a uno dei suoi figli. Ed ecco che una volta pubblicato quel video, andò virale. E da quel momento decise di continuare con il format, facendo scherzi a tutti. Anche a sua moglie. In realtà Mike aveva anche proposto di ritornare a fare i vlog. Ma sono stati proprio i fan ad invogliarlo a continuare con i suoi scherzi in casa. Una situazione bellissima per loro. Ma credetemi se vi dico che può anche essere un'arma a doppio taglio. Nikocado Avocado vi dice qualcosa? Ecco. Ma comunque il canale Deaddio5 esplode. E raggiunge cifre davvero alte. 750.000 iscritti e 176 milioni di visualizzazioni. Arriviamo quindi all'autunno del 2016. Ovvero il periodo d'oro per questo genere di video. Ci sono infatti tantissimi che come Mike fanno questi video e guadagnano un sacco di soldi. Ricordo bene questo capitolo di YouTube perché anche qui in Italia si era diffuso questo fenomeno dei prank. Ma comunque negli States il canale Deaddio5 è uno dei pochi che ce l'ha fatta. Ma ecco che cominciano ad arrivare i primi problemi. Non sapendo gestire troppo bene la fama, Mike comincia ad esagerare. E dato che fa video sugli scherzi, sono proprio questi ultimi a diventare esagerati. Il problema è che non sono solo finti o messi in scena. Tutto quello che farà d'ora in poi ai suoi figli sarà reale. E anche piuttosto controverso. Parliamo di punizioni assurde e cattiveria gratuita senza un vero motivo. Uno degli esempi che posso farvi è il video in cui Mike distrugge di proposito l'Xbox a uno dei suoi figli. Nel video vediamo Mike che lo insulta perché non ha fatto i compiti e quindi per punirlo gli distrugge la console. E ok, magari potreste pensare che non sia nulla di che, ma mettetevi nei panni del bambino. Il gesto di suo padre non aveva senso e si è ritrovato senza il suo gioco a causa sua. E a tutti gli effetti una punizione per qualcosa che non aveva fatto. Per un bambino fidatevi è destabilizzante. Mike tuttavia pensa che la reazione dei suoi figli a queste punizioni avrebbe fatto divertire il pubblico. Perciò inizia a comportarsi quasi come un vero bullo. Anzi, senza quasi. Adesso Mike si concentra a fare scherzi in cui deride e denigra i suoi figli. Si spaccia per un finto padre cattivo. Un padre che si comporta male con i figli ma solo per lo scherzo. Solo per il video. Senza rendersi conto che una cosa del genere ha un impatto a dir poco distruttivo nella psiche dei bambini. E questo si ricollega molto all'infanzia che ha avuto lui. Perché anche lui subiva tante punizioni. Ma qui la faccenda è diversa perché sembra che lo faccia solo per intrattenere. E per ricevere un guadagno personale. Quindi in un colpo solo fa del male psicologico ai suoi figli e ci guadagna pure. Tra l'altro per un periodo il suo pubblico addirittura apprezzava questi contenuti. E incitava Mike a farne sempre di più. Quindi arriviamo ad un punto in cui i titoli che mette nei video sembrano davvero esagerati. Ma nel suo caso non è un'esagerazione. Fa esattamente quello che dice nel titolo. Pensiamo ai canali che fanno i prank. Ecco, capita che mettano titoli o miniature molto esagerati ingigantendo il contenuto del video. Lo fanno ovviamente per invogliare a cliccarlo. Qui però la faccenda è più seria. Perché se Mike scrive un titolo in cui dice che fa impazzire suo figlio. Lo fa sul serio. Per farvi capire facciamo un esempio. In questo periodo, quindi nel 2016, Mike continua a spingersi sempre un po' più in là. Più è esagerata la reazione dei figli, più il video farà views. Quindi li mette alla prova. Fa cose come urlargli in faccia, prendere a pugni le porte vicino a loro, spaventarli senza motivo. Il tutto mentre li riprende da vicino e mentre ride di loro come se non ci fosse un domani. Più passa il tempo, più quella casa per quei ragazzini diventa un vero e proprio inferno. Mettiamoci nei loro panni. Immedesimiamoci, ok? Ti svegli. Fai le tue cose. Ti alzi. Ti lavi i denti, la faccia. Ma tuo padre, forse, ti sta riprendendo di nascosto. Forse ti sta aspettando dietro l'angolo per buttarti qualcosa addosso. Forse vuole darti fastidio. O forse vuole semplicemente urlarti in faccia per farti cagare addosso dalla paura. Ma tu nonostante tutto continui a fare le tue cose. Però ad un certo punto tuo padre si avvicina e inizia a parlarti. Ecco, non puoi sapere se ti sta parlando seriamente. Perché magari, anche senza una camera in mano, sta riprendendo di nascosto. E forse fa tutto parte dell'ennesimo scherzo che sta per farti. Ma nonostante tutto, continui la tua giornata con questa preoccupazione costante. Quindi arriva l'ora di pranzo e mentre siete seduti tranquilli a mangiare hai l'ansia che ti versi dell'acqua in faccia perché, boh, non si sa mai. E poi infine lo fa. Ti fa lo scherzo che stava architettando. E mentre ti riprende, inizia a riderti in faccia e insultarti. Mentre tu non capisci cosa sta succedendo. Sei spaventato, magari sporco da qualcosa che ti ha versato addosso. Vieni deriso e preso in giro. Senza un motivo. E sai che tuo padre lo sta facendo per un video. Per far ridere degli sconosciuti dietro uno schermo. Ecco, questa era una tipica giornata nei panni dei figli di Mike. Deve essere stato davvero un incubo per loro. In molti video, infatti, si vedono i figli che piangono disperati e si percepisce che semplicemente non ce la fanno più. È un vero e proprio regno di terrore costruito per far ridere. Anche se l'unico a ridere era Mike. E comunque, se sei piccolo, ragazzi, non sai come comportarti. Non sai reagire. Perché mettetevi di nuovo nei loro panni. Non è uno strano e abullizzarti, ma tuo padre, in casa tua, nell'ambiente che per te, bambino, dovrebbe essere sano e sicuro. Invece diventa un incubo. E non sai cosa fare. Non puoi fare niente. Perché se ti ribelli, se piangi e urli, Mike ride. Continua a ridere e riprenderti sempre di più. E continua anche a guadagnare sulle tue lacrime. Tuo padre diventa il tuo bull a tempo pieno. Perché per lui ormai è diventato un lavoro. È davvero una situazione pericolosa per i bambini. Ma purtroppo non è tutto perché Mike comincia anche a distigare i figli alla violenza. Praticamente, oltre a far loro questi scherzi bruttissimi, li incoraggia a fare lo stesso tra di loro. Quindi si crea in fretta un clima di competizione tra i piccoli. Che a causa di questi scherzi, fastidiosissimi, finiscono spesso per odiarsi. A volte sono tre figli contro due, o peggio contro uno. Capite che è diventata una situazione tutt'altro che sana. Ma intanto il canale si riempie di video con scherzi orribili. E quella che prima era solo ironia, alla fine degenera. Mike si sta dimostrando un pessimo padre. E sua moglie Heather non sembra avere molta voce in capitolo. Anzi, sembra più una complice. Ma è sempre Mike al centro di tutto. Diventa un narcisista furioso che pretende la competizione. E' molto orgoglioso anche dei suoi risultati del suo canale. Li flexa. Flexa i numeri ogni volta che può. Con i soldi guadagnati dalle lacrime dei suoi figli, compra delle auto e si toglie anche qualche sfizio. Ma si rende conto troppo tardi che i suoi figli, la sua fonte di guadagno, stanno cambiando. Per quanto lui li istighi ad una malsana competizione, negli ultimi video si vede proprio che c'è un clima meno allegro. I bimbi sono tristi, evasivi e non si divertono affatto. Smettono anche di fingere di divertirsi. A questo punto sembra che quelli più presi di mira siano i figli biologici di Mike, quindi Emma e Cody. Ma sembra che il più bullizzato, anche tra loro due, sia proprio il piccolo Cody. Ricordate la roba dell'Xbox? Ecco, era l'Xbox di Cody. Ma comunque in generale, Cody è il protagonista di quasi tutti i video che hanno ricevuto più views. E questo accanimento su di lui e su Emma è a dir poco disgustoso. Ma sembra essere comunque Cody il bambino attorno a cui girano le peggio cose di questa storia. Infatti, sembra che il piccolo soffra di un disturbo mentale che lo porta ad avere comportamenti particolari, reazioni particolari. Che però vengono presi sotto gamba dai suoi pessimi genitori. E che vengono anzi alimentati dagli scarsi che gli fanno. Ma la community vuole che Mike faccia sempre più scarsi contro Cody. E si parla spesso di scarsi che hanno a che fare con la cacca. Non voglio sapere di più. Cioè, c'è un accanimento disgustoso nei confronti di questo bambino. E non solo da parte di Mike, ma anche da parte di chi guarda quei video. Si trovano facilmente online questi video. E veramente ci sono alcuni clip che mi fanno venire i brividi. Cioè, mi hanno fatto davvero venire i brividi. Perché è davvero tristissimo. Vedi questo povero bambino indifeso che non sta facendo niente. Magari il padre gli urla addosso dal nulla. Lui si mette a piangere disperato. Non sa che cosa fare. Ragazzi, è bruttissimo. Non capisco come facesse a far ridere. Perché veramente. Si tratta di... Di violenza. Di abusi. Anche fisici. Fisici e psicologici, soprattutto. Infatti, in molti video a questo punto, vediamo che Cody si allontana da Mike. Ha paura di lui. Per esempio, si rifugia nello scantinato oppure in bagno. A volte minaccia anche suo padre di lanciargli qualcosa addosso. E soprattutto, questa cosa mi ha spezzato il cuore, gli dice che non riceve mai amore da lui. Il che è assolutamente vero. Ma tutto questo ancora viene scambiato per intrattenimento. C'è un distacco dalla realtà talmente grande che addirittura Mike, sua moglie e i figli non si rendono conto della gravità della situazione. Per farvi capire, uno degli scherzi fatti a Cody, che la community riteneva il più divertente, è quella volta che hanno finto di abbandonarlo. Vi rendete conto? Come sempre mettetevi nei panni di Cody. Io da piccolo andavo in panico se i miei miei mi dicevano che chiamavano il collegio. Figuratevi pensare davvero che i tuoi ti hanno abbandonato. È davvero una cosa crudele. E infatti a questo punto sempre più persone sul web si rendono conto che forse la situazione stava degenerando. Anche se comunque una buona fetta di spettatori chiedeva sempre più video di questo tipo. Tuttavia, la goccia che fa traboccare il vaso arriva nel 2017. Un anno che quella famiglia non si scorderà mai. Ovviamente tutto parte da un video, l'ennesimo prank fatto a Cody. Ad annunciarlo è la madre Eder, che tutta contenta, sorridendo alla telecamera, annuncia cosa hanno organizzato questa volta. Spiega che verseranno una specie di liquido per terra e daranno la colpa a lui. Lo scherzo, per essere credibile, dovrà essere fatto in modo tale da far sentire in colpa il piccolo. I genitori quindi si organizzano, si preparano e fanno in modo di sembrare davvero infuriati con lui. E infatti è quello che succede. Eder versa il liquido per terra, poi chiama Cody e insieme a Mike gli fanno vedere il liquido e lo accusano di averlo buttato lui. Entrambi i genitori quindi iniziano ad urlargli in faccia dicendo che è stato lui a versarlo. Il bambino prova a giustificarsi in ogni modo possibile, ma le urla rabbiose di Mike ed Eder sono troppo forti. E Cody non può fare altro che piangere e supplicare in una scena pietosa. A un certo punto arrivano anche gli altri quattro fratelli che rimangono a bocca aperta. Sono preoccupati e imbarazzati. Solo uno di loro si fa avanti per difendere Cody, ma i genitori se la prendono anche con lui. Questo gesto terrorizza gli altri figli che intanto rimangono appena fuori dalla stanza, visibilmente preoccupati. Cody a questo punto è psicologicamente devastato. Non sa più cosa pensare, si sente distrutto e anche il fratello che lo ha aiutato si sente umiliato. Intanto i genitori continuano ad urlare incazzati. Ma alla fine, e solo alla fine, quando gli hanno fatti gritare abbastanza e piangere inutilmente, cominciano a ridere. Ridono tantissimo e fortissimo e spiegano che era uno scherzo. La madre addirittura si inginocchia dalle risate. Mentre Cody e i fratelli rimangono ancora più scioccati, più perplessi. I bambini non ridono. Nessuno dei cinque figli ride. Questo particolare scherzo, anzi, fa scattare qualcosa in loro. Di questo video rimangono solo alcuni pezzi online. E vederli, ve lo giuro, fa venire i brividi. Soprattutto è agghiacciante sentire le risate tremende di questi due adulti, che sono fieri e divertiti per aver preso per il culo i loro figli e per averci guadagnato dei soldi sopra. Comunque, il video in questione diventa virale, come al solito, ma anziché divertire questa volta, inizia seriamente a preoccupare la gente. Gente che infatti comincia a commentare in modo negativo. Qualcuno pubblica addirittura dei video contro Mike, dicendosi indignato del comportamento suo e di sua moglie. Da questo momento, il canale Deaddio5 comincia a ricevere una valanga di insulti, rivolti sia a Mike che a sua moglie Heather. Persino quelli che fino a quel momento avevano invogliato la coppia a fare gli scherzi, ora si rendono conto che hanno toccato il fondo. I bambini nel video sono privi di qualsiasi volontà, sembrano prosciugati. La cattiveria nei loro confronti è stata così tanta che è stato impossibile ignorarla. Mike però risponde a questi commenti dando la colpa agli utenti, dicendo che erano loro a volere questi video. Afferma che non devono prendersela, che non sono pessimi genitori, ma non c'è nulla da fare. L'odio nei loro confronti non accenna a fermarsi. Mike fa una sorta di video risposta dove mostra i bambini, e fa notare che tutto sommato sono tranquilli, ma ormai quasi più nessuno crede a ciò che fa vedere. Nel suo canale erano tantissimi video di abusi psicologici, fatti non solo a Cody, ma anche agli altri. Quindi ecco, c'era poco da credere, la verità era davanti agli occhi di tutti, e c'era sempre stata. Infatti molto presto si fa avanti l'ex compagna di Mike, Rose. Rose è la madre biologica di Cody ed Emma, e si dice disgustata dal modo in cui Mike si sta comportando con i loro figli. E non capisce come anche Heather, la moglie di Mike, possa contribuire a questa follia. Quale genitore adora deridere i suoi figli? Infatti non lo so. Così Rose e sua sorella provano a fare tutto quello che possono per svoltare la situazione, per far qualcosa per aiutare questi bambini. Ma sembrano non ottenere grossi risultati, anzi, rimangono solo deluse e frustrate. Perciò decidono di chiedere aiuto ad internet, e lanciano degli hashtag per denunciare ciò che stava accadendo. E sempre più utenti a questo punto finalmente si ribellano. Capiscono davvero che si trovano davanti ad un caso di abusi, e sentono di dover fare qualcosa. Infatti, dopo non molto, i nodi vengono al pettine. E si scopre che Mike e Heather avevano fatto un casino. Per farla breve, perché non l'ho capito molto bene nemmeno io, si scopre che Mike e Heather avevano falsificato alcuni documenti. Falsificando questi documenti, hanno fatto sì che Rose, la vera madre di Emma e Cody, legalmente non fosse più sua madre. Non fosse la vera madre. Cioè, pare che abbiano fatto passare Heather come madre biologica e effettiva dei figli, tutto all'insaputa di Rose, ovviamente, in modo tale che Rose non sarebbe potuta intervenire legalmente. E sembra che almeno all'inizio sia stato questo a causare tutti quegli impedimenti giudiziari. Ovvero, forse è per questo che Rose non ha potuto fare molto per salvare subito i bambini da questi abusi. Perché lei, alla legge, risultava come una sorta di estranea. Ma comunque, come al solito, ci pensa il web a fare casino. Un casino buono. Praticamente, lo youtuber Philip DeFranco fa un video in cui ricostruisce la situazione di questa famiglia e fa notare e capire tutti i tipi di abusi fisici e psicologici che questi bambini stavano subendo. Da questo momento, se ne comincia a parlare anche in televisione. Quindi Mike viene sommerso di odio e di domande. La gente vuole capire, ma soprattutto vuole fermare questi abusi. E intanto, Mike e Heather non sanno più come scusarsi. Si arriva addirittura al punto di togliere loro la custodia di Emma e Cody, che vengono riaffidati, finalmente, alla madre biologica, Rose. La legge, quindi, infine interviene e i due coniugi sono costretti a chiedere scusa. Il canale Deaddio5, così, viene chiuso per sempre. Ma la storia non finisce qui, purtroppo. Il 7 luglio 2017, prima della chiusura del canale, Mike pubblica un video. Questo contiene semplicemente un testo che dice che il canale non è morto. Chiede piuttosto agli spettatori di iscriversi al canale Mommy05, MamminaD5, ovvero il canale della moglie Heather. Dopo aver ricevuto il silver button, Mommy05 cambia nome e diventa Family05. Ma nell'agosto del 2017, Mike e Heather vengono accusati di abbandono di minore, finalmente. E l'11 settembre 2017 si dichiarano colpevoli. Vengono così condannati a 5 anni di libertà vigilata, ma, ancora una volta, non si fermano. Continuano a pubblicare qualcosa nel canale Family05, che però non sopravvive a lungo. Infatti viene chiuso il 18 luglio 2018 per la violazione delle linee guida della community di YouTube. Nonostante questo, per un periodo Mike e Heather continuano a pubblicare video sul loro sito web ufficiale. Video che si potevano vedere solo pagando un abbonamento di 5 dollari mensile. E continuano anche a fare live sui loro canali Twitch. Ma arriva finalmente un'altra svolta. Nel gennaio 2019, Mike e Heather cancellano tutti i video sul loro sito web e scrivono queste parole. Ve le cito. Al fine di andare avanti con il processo di guarigione dagli eventi del 2017, abbiamo accettato volontariamente di rimuovere i nostri video anche da questo sito. Per il bene e il benessere della nostra famiglia, io e Mike riteniamo che sia meglio prendersi una lunga pausa dai riflettori pubblici. Questa dovrebbe essere la vera fine di questi due canali. Se non fosse che ne fanno un altro. Ancora uno. Un terzo canale ancora online. L'11 ottobre 2018, Jake, Ryan e Alex, gli ultimi figli rimasti alla coppia, creano questo nuovo canale su YouTube. Lo chiamano The Martin Boys, ma poi cambiano il nome in The Martin Family. Ma nonostante ufficialmente il canale sia dei figli, sembra che dietro tutto quanto ci sia sempre Mike. Comunque dopo poco tempo, l'8 gennaio 2019, Mike viene accusato di aver caricato un video in cui mostrava Cody. Cody, ricordiamocelo, non è più suo figlio. Nel senso sì, ovviamente è ancora suo figlio biologico, ma non più dal punto di vista legale. Non ci si può avvicinare, insomma. E nonostante abbia infranto questa importante regola, la libertà vigilata di Mike e Heather, per qualche motivo che non sono riuscito a trovare, viene ridotta. È vero che nessuno ha tolto la vita a nessuno in questo caso, e almeno per due dei cinque bambini un po' di giustizia è stata fatta, ma la radice del problema rimane. Mike e Heather non sono in carcere. A quanto pare la violenza sui minori non è considerata un reato così grave da quelle parti. Ma per come hanno trattato i bambini, secondo me, meritavano una condanna più pesante. Ma comunque tutto è possibile, si tratta di una storia recente e le cose potrebbero cambiare. Tuttavia trovo davvero che si siano comportati in una maniera disgustosa, e potete capirlo solo se vedete i loro video, che si trovano facilmente su YouTube. E non riesco a capire come potessero divertire qualcuno. Sono davvero situazioni bruttissime. Situazioni che ovviamente vanno denunciate, e che ovviamente non dovrebbero far ridere su YouTube. Io veramente vi invito a vedere uno di questi video interi, e vi invito poi a dirmi qua sotto cosa c'è di divertente. Perché non c'è niente di divertente. E anzi, fatelo, guardate questi video, perché solo in questo modo capirete veramente come erano trattati. Perché descrivendo la situazione mi rendo conto che, dato che siamo abituati a omicidi feroci, cose del genere, sembra una cosa, ma sì, cosa vuoi che sia, erano scherzi. In realtà però guardando quei video, e cercando di immedesimarsi ovviamente nei bambini, sono davvero brutti. Sono terribili, si vede che i genitori erano proprio cattivi con loro. La Family O5 comunque è un caso complesso, ed è l'esempio perfetto di cosa non fare se hai dei figli. È proprio vero che tutti possono fare i figli, ma non tutti possono fare i genitori. Quindi, ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che presto torniamo di nuovo in Giappone. E parliamo di una delle persone peggiori che abbia mai camminato su quella terra, ve lo giuro. Peggio di altri di cui abbiamo già parlato. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao!